La piattaforma Persona è una piattaforma applicativa sviluppata dalle persone per le persone con l'obiettivo di monitorare e raccogliere alcuni dati e informazioni quali il consumo di acqua, il controllo delle emissioni CO2, i livelli di qualità dell'aria, così come i flussi di gestione delle persone. Questo consente di rendere migliore la vita delle persone e di garantire un approccio alla sostenibilità che sia efficace e affidabile. Il Demolab IoT si è concentrato sul building di Vicenza dove monitoriamo il people counting attraverso l'analisi dei quattro varchi in ingresso e in uscita dalla sede, come del resto fatto a Venezia per i 34 varchi che gestiamo. La componente di consumo energetico dove monitoriamo non solo il consumo in termini quantitativi ma anche in ambito qualitativo dell'informazione. Lo smart parking dove non solo controlliamo la presenza o meno dell'utilizzo del parcheggio ma anche se utilizzato o meno in maniera propria o impropria. E la componente di qualità dell'aria attraverso l'analisi della CO2 e del particolato. Il tutto gestito centralmente dalla nostra piattaforma Persona. La tecnologia IoT applicata da Axians può essere utilizzata in ambiti pressoché limitati. Del resto noi siamo stati chiamati da un cliente ad integrare il Building Management System, la componente fisica del building, con il BIM, il Building Information Model, che è la sua accezione virtuale. In questa integrazione il cliente ci ha addirittura chiesto di rebrandizzare completamente la piattaforma e siamo riusciti a farlo anche grazie alla caratteristica estremamente malleabile e personalizzabile del nostro persona. Lasciatemi dire anche attraverso quello Human Touched che è proprio nel DNA di Axians. Axians con la piattaforma Persona offre una soluzione interamente personalizzata sulla base delle esigenze specifiche del cliente. Il nostro team progetta la piattaforma e sviluppa i software necessari per il suo funzionamento dai dispositivi connessi all'architettura di rete. Possiamo fornire e integrare Persona con altre tecnologie o sistemi che l'azienda sta già utilizzando. Axians fornisce formazione sul funzionamento e utilizzo della piattaforma Persona per utenti finali o operatori aziendali. Nel post vendita diamo supporto, aggiornamento del software e risoluzione dei problemi tecnici. La piattaforma Persona contribuisce a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro e delle infrastrutture pubbliche attraverso la raccolta di dati anche in tempo reale e l'attivazione di allarmi automatici in caso di situazione di pericolo. Inoltre aiuta a creare nuove opportunità di lavoro per giovani professionisti e start-up innovative. La piattaforma Persona permette di, monitorando alcuni parametri come qualità dell'aria, controllo dell'emissione di CO2, livelli di consumo di acqua, ma anche gestione dei flussi di persone, di prendere delle decisioni rispetto a questo tipo di parametri rendendo intelligente la gestione degli stessi o nell'ambito cittadino, nell'ambito ad esempio di gestione di un edificio. Quindi se sono in grado di controllare posso decidere. Grazie.